buon pomeriggio buon pranzo a tutti voi cari amici fan che state rientrando adesso dal duro lavoro di ogni giorno a casa parliamo in questo ultimo video per il momento poi ne arriveranno altri tra qualche oretta parliamo appunto di pallacanestro americana nba maschile nella mattinata nottata martinata italiana iniziata alle 3 e mezza questa mattina la sfida houston rockets vs boston celtics vinta dai rockets 116 a 105 andiamo con la cronologia della partita primo quarto 23 19 secondo 47 49 terzo 78 71 e appunto l'ultimo 116 a 105 james harden il barba realizzato 42 punti westbrook 36 entrambi giocatori di houston highward boston 20 punti vittoria dei rock e scuotata tra 1 e 70 e 71 e 72 e 74 in classifica il gruppo ovest di houston sono quinti con 34 vinte 20 perse terza gara vinta nelle ultime cinque partite mentre boston sono terzi a con 37 vinti con 37 vinte 16 perse pensate è stata l'unica partita persa nelle ultime cinque partite nel prossimo match il houston si regherà in gas di golden state warriors il 21 febbraio golden state quindicesime ultima dove scon 12 vinte 42 perse reduci da tre sconfitte di fila nelle ultime cinque partite mentre boston celtics il 14 febbraio giocheranno in casa contro los angeles clippers che sono terzi ad ovest con 37 vinte 17 perse 2 3 vinte 2 perse nelle ultime cinque gare concludiamo ribadendo appunto gli houston rock che sono superato in casa il boston celtics 116 a 105 ci vediamo tra qualche ciao